wow bella ragazzi siamo qui siamo sempre nel deserto libico e c'è anche giulio e c'è anche il buon giulio e stiamo uccidendo teteschi però mi devi dare l'auricolare in posto di giocarci con le mani che ti va bene che ci gioca con le mani esatto comunque io volevo dimmi 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 il tiro dalla distanza volevo sapere dove si fa e io invece volevo dire che dovremmo salutare un gente tiro della tigre mi sono dimenticato dal prossimo il prossimo salutiamo dal prossimo settimana no dal prossimo video si saluta il tiro della tigre ma dobbiamo dire cosa devono fare cos'è il tiro della tigre con i mark landers la distanza mi evoca il tiro della tigre la catapulta infernale esatto dei frate la catapulta infernale ma questo l'abbiamo fatto fuori noi no è morto di cose naturali malaria credo la tua simpatia mi fa esplodere proprio ma lancia il corpo giù c'è tanto per che possiamo fare una chiamata il destinatario il kentucky però qui non esplode niente giulio faccio l'accento giulio vuoi far chiamare quanto c'è lei ma entro qui sabota bisogna dire cosa devono fare i non iscritti per gli iscritti già sono iscritti stai facendo comunque iscritti se è possibile no è il momento che è immancabile se sono di troppo me ne vado no perché c'è il trisom come fai a sapere queste cose non lo voglio sapere un trisom da sciogno come cazzo che sogni che fai come non te ne vedevo nei tempi di rock invade la sassonia cioè la versione gay di rock invade la polonia e poi ci sono internet comunque la gente si deve iscrivere scusate io mi sono perso ma va bene così discord gaming xxx aprirà a breve minchia ragazzi ma guardate che professional accelerava pure non lo so comunque facciamo un po' di promozione al canale allora dai te bacilla cosa che lo facciamo mai peraltro palla allora dovete iscriversi alla minchia lasciamelo allora dovete vabbè non la faccio più va bene vedi vi dovete iscrivere su infatti non è che vedete i video e poi non vi iscrivete il canale ma che modi sono stiamo scherzando anche c'è io lawsuit ho una mancanza di rispetto per il nostro lavoro che facciamo per voi perché noi lo facciamo per voi quindi vi dovete iscrivere perché tra l'altro sta crescendo il canale quindi dovete contribuire alla crescita del canale si può bullare di essere fan della prima ora esatto pensate di dire agli amici ma io li seguivo quando avevano 8000 iscritti before it was cool e si sa che poi è a un passo io li seguivo prima che fossero commerciali potete fare i veri indie io li preferivo prima quando non erano commerciali ma il loro primo video è stato il video e siete dei venduti siete dei venduti in effetti mi manca un po' da quando le major vi hanno acquistato non siete più gli stessi invece voi potete però di la tua sta per dire una cosa intelligente lo sai sto per dire una cosa intelligente siamo vicini ai 10.000 iscritti il 10.000 iscritto vincerà cosa? facciamo di vincere qualcosa se offri tu volentieri dimmi cosa vuoi fargli offrire? c'era una cena romantica con Fra no poi ci credono anche poi gli dicono si è romantica con Fra poi tra l'altro sono un uomo che cazzo vuoi che io vabbè vedi che è una donna decidete di iscritto poi se piacere o non piacere non discriminare non discriminare Fra sentite proviamo a farla col coltello questa dai per una volta diciamo audaci le squadre dell'audacia poi dovete iscriversi su facebook trovate i link sotto e droppare un like capisco iscriversi droppare un like e ve lo dico dopo comunque le uccisioni col coltello a livello di esperienza te ne dà un di meno te lo dico il party il famoso party alcol droga il famoso dei party ok quindi se vuoi expare non devi ammazzare col twitter e anche su twitter perché saranno queste le carte Giulio che dicevi prima boh allora ce n'è una in tutto il livello di carta collezionabile quindi minchia adesso per i prossimi 20 minuti vediamo salutiamo uncook96 si che è un po' un nome che evoca strane cose però ma che cosa ma che cosa questo è sempre per il canale xxx che aprirà al 10 millesimo non ho capito cosa dovrei fare il canale xxx doveva essere gestito da Joe un canale farebbe gran successo date a Cesare quel che dì Cesare esatto di Cesare trovi nemici mi piacere sto cercando ma non vorrei cogliere in pace nell'arba alta e mandateci il curriculum su linkedin ma perché perché cioè che poi mi arrivano davvero tu non capisci che ogni cagata che tu dici come la fanno a quelle ripercussioni nel reale ma io per quello che le dico no perché noi selezioneremo mettiti prono un social media manager ma che cazzo faccio a mettermi prono eheh eheh se vuoi il canale xxx mi risponderemo a questa domanda questa domanda siete dei maiali cazzo quindi io mi posso sdraiare così avere anche più precisione non riesce a scalare le rocce c'è quel problema potrebbe non aiutare in questa circostanza esatto però che luogo bello è un oasi è l'ora di Tobruk anzi Tobruk sento delle voci che voci sento? no nel gioco ah ok c'è il canale surreale e misteri misteri e Adam Kadmon solo su suoi sono andato assieme perché non l'hai ammazzato quello? perché non c'ho il rumore ne sono due cento mille io faccio il canale storie di soldati tedeschi raccontate da Federico Buffa fra spara ti prego ma mi sente cribio non c'ho vorrei anche vedere non ti sentisci se gli spari in testa intanto perché camminano così? ma perché sono diversamente abili farli camminare come vuole a noi sono le truppe diversamente abili il riflettore deve essere eliminato l'addetto al riflettore quindi c'è un addetto al riflettore ti rendi conto? hanno la perfetta divisione dei compiti comunque io ho una pistola silenziata ma a monocolpo ah cose utili quindi togli di mezzo ai cadaveri togli di mezzo ai cadaveri ma perché? perché lanciali nell'acqua perché come ti hanno detto non hai visto prima cosa era successo? sì però scusate guardiamo che non ci siano persone là sopra che mi vedono no perché poi tu ci scherzi ma qui siamo ce n'è uno lì dietro che potrebbe vederti un po' più facilmente vabbè comunque raccogli il corpo la perquisa perquisa è la madre di tutti gli sgavi quella era interistil.org gran canale non è un canale è un puttarrutto no è un sito è ancora si può dire che Giulio è interista ecco zack meno duemila iscritti ma come è venuto ma non è che la gente è un canale di calcio della Roma la tiene alla salernitana ma che cazzo dice alla sorbiatese esatto terreno mi allantava di tenere all'interno peggiora la sua già precara situazione cioè ma perché perché cioè rispondi a questo perché cosa perché fai tutto ciò perché ci vengono di me si pare un sacco di troiai che poi la gente ci crede ma poi potrebbe essere tutto falso esatto silenziato e isolato 40.xp beccati questo Giulio e tu che non ci credi blinda blinda lanciano in acqua vediamo se si può no seriamente stupra il il problema è che devo passare per il sentiero per arrivare nell'acqua ed è un legno non possiamo farlo quando quando uccidiamo qualcuno lo buttano nell'erba io ci tenevo trovo un coyote qualcosa siamo del Grand Canyon non si fanno lascia giù no voglio gettare ma non è che poi fa splash io dico i piccoli galleggiano più che altro non so se cioè vedi che fallimento hai visto ecco cioè mi era attristato comunque nella realtà se mai voleste liberarvi di un cadavere ricordate se li buttate nell'acqua galleggiano grazie Giulio o li zavorrate o li bucate non ci sono alternativa quale altro chi cazzo vuol dire bucate chi cazzo vuol dire bucate chi cazzo non dica no arriva la postale e ci chiude ci arriva dentro i dettagli contenuti erotici chiedo un consiglio voi che siete ci facciamo da lì ce lo pigliamo andiamo saliamo da lì ce lo pigliamo si dai oddio ma perché devi sempre vederci vende quando c'è tra poco sul canal xxx io no però se tu vuoi prenderlo cioè sei noi non è io non c'era un cazzo che sentiamo è per citare lo stato sociale il mio amore entra in una festa figa siete veramente altro coppia di infringimento il canale chiude entro domani come faccio ad andare qui sopra mi sa che devo proprio risalire di là hai capito eh sì tendenzialmente sì se te farlo da sopra c'è ancora non sai scalare pareti quindi qui qui è una figata il fatto che si affatichi così posso dire si si no è vero eh ma nella realtà soffatti intubro si dico che carino ma infatti il gioco è bello a me piace gioco è bello se si ma del cazzo sto mandando giuglio tu che hai la bussola non so se non so se non so dalla parte opposta alle spiattanei questo ho capito però spero che sia un limite al deserto attento bravo attento al tipo esatto è proprio ah ma lui lo vuole a coltellare no no però gli dico stare attento comunque fa bene giusto vedete persone di là parla da sua ah fuma ok fumate fumate anche questo ci paga la la malavita tiriamo un bel calcione anche vandalismo il gioco sai i video quando mettono del linguaggio violento contenuti sessuali tipo vandalismo posso sparare troiai puoi aiutami ma noi siamo qui per sparare troiai ma anche ad aiutami ci paghi per quello diciamo che noi siamo pagati 16 centriere dalla casta esatto frai la casta ci paga ci paga ci paga ma scusate ma quella che bandiera è quella quale metti fuori uso quello devi spararmi no veramente è l'african corp tedesco e qualcuno dei nostri amici potrebbe confermarlo no sono pensato che dovrei sparare anche il padre di giulio penso anche il padre di giulio no credo sia l'african corp ma se non lo è insultatemi nei commenti ok sempre per dare una qui vedete qualcuno una spennellata di insulti al canale una spennellata di secco che già abbiamo ampiamente dato frasi per quello vai a pensare poi dai la colpa a noi che già abbiamo ampiamente dato secondo me ragazzi mi volete aiutare mezz'ora che guardo cosa dobbiamo fare lo stai giocando tu vedite la gente lì ce n'è uno vedo la gente morta dove lo vedi qui no ho visto la madonna lì ce n'è uno a destra forse ce n'erano altri ma inizia a sparare che te frega esatto spara che ti passa dai dai petardo Giulio si è alzato quindi secondo me abbiamo finito me ne vado Giulio se ne va per protesta c'è ancora tempo ci sarà una sostituzione in cuore cambio arbitro esatto come Prandelli perché dopo che è più o meno oggi c'è la temperatura di Manaus posso anche io definirmi stanco morto vuoi che accenda l'aria condizionata aiuterebbe ma più o meno fino a un secondo fa io scherzavo è più o meno è più o meno poco la premeditazione la premeditazione è importante beh anche tu dici la pezza esatto madonna è un rappallimento totale perché si è fermato è colpa sua erca puttana cioè vedi che non mi giustifica ma se andiamo avanti di lì o dite proprio di prenderli tutti qua c'è il rumore che ti copre la ragione anche tu quindi finché puoi sfruttano fanculo dietro alla tenda deve andare e quello là in fondo un po' sbiricuda no prendne la vegetazione io ti ricordo che hai chi fa il colpo di stante è una figata eh ma il problema è che non riesco a posizionarmi via libera posso chiedere che anno siamo tra l'altro nel 2018 di Cristo no no c'è tipo 1943-44 abbiamo idea no forse l'ha detto all'inizio l'han detto Fra ma non l'avrà detto ok grazie e poi piglia la confezione magari c'è scritto siamo a Tobruk in Libia quindi sarà 43 bravo Fra mi ha dato un sacco di soddisfazione questo ci dà hai perso persino l'auricolare dal sì però che cazzo si vabbè è il momento naturalismo Piero Angela è perché è partito un video ah ok no ho scritto un casino vabbè io qui però non ne becco altro 150 XP andiamo avanti cosa guarda ti ha dato una cifra bonus contrassegno ah per quello andiamo avanti Giulio che chi cosa non ne vedo altro perché hai creato un bonus contrassegno più 100 XP è perché ho contrassegnato il mondo cazzo ho capito ma c'è manco stessimo facendo il censimento bello questo censimento di Tobruk se facessero così censimento censimento utile perché censimento è poi un chili un bel pianeta perché qui ho un pallino sopra un'idea insomma ma minchia ma pensa qui sotto io posso io farei notare l'effetto sabbia tra l'altro sempre far notare la sabbia la sabbia è la base di eh ma questo non possono capire ragazzi cioè se vi fate questi e l'effetto nebbia non c'è c'è un film non dire così perché poi in tre commenti mi dicono ah minano ci avete solo la nebbia c'è un film che non mi ricordo in questo momento in cui c'era la divinità madre sabbia ve lo dico minchia c'è un tipo l'ho visto madre sabbia eh sì prossimo video salutiamo perché dovremmo salutare no hai ragione eh se ci fosse giù mi cazzerebbe che figata è un gramofono così proprio cioè guardate con che rabbia lo guarda tipo mo beccati questo dov'è il coso scoppiettante fra cucina il parmigiano lì cosa c'è allora e il parmigiano ma non è che posso questi quelli di reggio lo capisco lo capisco perché hai fatto che te li gramofono a pò non hai la sensibilità per l'ambulco no veramente sei un insensibile va bene ragazzi così perché ci piace lasciarvi sul più bello e con la compagnia sempre di Matteuccio e Giulio vi salutiamo io non ho vezzeggiativi no